Fra poco a Stasera Italia abbiamo ospite Luigi Di Maio, bentornato. Allora lei ha moltissimi incarichi, ce li elenca? Più che gli incarichi meglio elencare quello di cui mi occupo, di imprese, col Ministero dello Sviluppo Economico, di lavoro e politiche sociali che significa lavoro alle persone ma anche aiuti alle famiglie che fanno figli, aiuti alle famiglie in generale con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e come Vice Premier rappresento il Governo anche all'estero e questo ci aiuta per le esportazioni del Made in Italy, tipo in Cina, in Italia, negli Stati Uniti o negli Emirati Arabi. Il Movimento 5 Stelle lo aggiungo io per volontà di Beppe Grillo. Tra poco a Stasera Italia. Bentornati a Stasera Italia, l'immagine che vi offriamo è una Napoli meravigliosa, forse addirittura con una super luna sullo sfondo, ce la manda Maurizio Piccirillo. Lo ringraziamo e vi invitiamo a mandarci i vostri paesaggi del cuore a palombelli-mediaset.it. È tornato a trovarci, lo ringraziamo, il Vice Premier Luigi Di Maio. Buonasera, buonasera a voi tutti. Qui, che però ha molti altri incarichi, anche quello di capo politico del Movimento 5 Stelle. Quando arriveranno i candidati per l'Europa? I cittadini italiani conosceranno i nostri candidati per le elezioni europee dopo domani, perché domani c'è l'ultimo turno. Noi scegliamo la maggior parte dei candidati nelle nostre liste con la votazione dei nostri iscritti. Quindi devi essere meritevole. Tra l'altro li selezioniamo in base alle lingue che conoscono, ai titoli di studio. Più hanno titoli di studio, più lingue conoscono per andare in Parlamento europeo, più sono alti nella classifica. Poi ci sarà una votazione domani e dopo domani i cittadini italiani conosceranno molti di questi candidati. Nelle prossime settimane poi a me spetta l'onere come capo politico di decidere i capilista. E vorrei individuare delle persone che sicuramente non deluderanno i cittadini italiani. E devono essere però votati sempre dalle parlamentari. È una proposta di cinque nomi che io sottoporrò ai nostri iscritti per conferma. Ah, per conferma. Come ratifica. Ah, quindi sono nomi a sorpresa. Uno non ce lo può dire? No, è ancora troppo presto. Alessandro Di Battista? Alessandro ha detto che non si candiderà all'elezione europea, ma devo dire che non si era candidato neanche alle elezioni politiche. Ma lo ringrazierò sempre per la mano che dà il Movimento, perché è una persona che conosco bene, coerente con se stessa e soprattutto un grande combattente. Quindi al di là degli incarichi e delle cariche lui c'è sempre. Quindi cinque nomi che conosceremo? Cioè che in qualche modo diremmo, ma guarda, quello si candida col Movimento 5 Stelle? Saranno delle sorprese? Non mi faccia dire altro, saranno delle sorprese. Vabbè, però la faccio a furbetta. Vediamo la copertina di Giancarla Rondinelli, poi cerchiamo di acchiappare qualche cosa in più. Non è più tempo di perdere tempo. L'Italia ha bisogno di lavorare, di crescere, di viaggiare in fretta. E spero che non ci sia nessun ministro che rallenti su questo. Matteo Salvini non lo dice, ma se c'è un ministro che rallenta è quello dell'economia, Giovanni Tria. Per qualcuno sarebbe addirittura accerchiato. No, non mi sembra. Se ciascuno fa il suo lavoro non ha nessun timore. Lega e 5 Stelle fanno pressing per la firma sui decreti relativi ai truffati delle banche. L'economia resta dunque al centro del dibattito politico. Dall'Istat arriva il dato sul reddito disponibile delle famiglie consumatrici. In calo nel quarto trimestre 2018, nello 0,5% come potere di acquisto rispetto ai tre mesi precedenti. Il Partito Democratico va all'attacco, teme conseguenze sulla tenuta del Paese e per una volta difende il ministro Tria. Mettere il ministro dell'economia in queste condizioni e far partire un'azione di delegittimazione attraverso questi metodi significa esporre il Paese a un rischio incombente. Tutto questo alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrebbe dargli via libera al decreto crescita. Invito tutti i ministri a non lasciarsi distrarre da altri timori e preoccupazioni. Non ci sono ragioni perché ho sentito parlare anche su qualche giornale, ventilate di missioni o altro, richieste. No, non c'è nulla all'ordine del giorno. Tutti i ministri devono stare tranquilli. In questo momento, io lo ripeto sempre, dobbiamo tutti lavorare. Arriveranno le risposte del governo per rilanciare le misure per la crescita? Il governo è qui e quindi risponde direttamente. Che succede? Domani c'è un decreto importante? Domani in Consiglio dei Ministri portiamo un decreto importante. Voglio citarvi solo due cose che sono importanti come ministro dello sviluppo economico e che aiuteranno il lavoro e le imprese. La prima è quella dei marchi storici, cioè noi in questi anni abbiamo avuto aziende importanti del Made in Italy, marchi storici come Pernigotti, che per effetto della crisi sono finite nelle mani straniere. E poi che è successo? Che alcuni stranieri si sono tenuti il marchio e hanno licenziato i lavoratori e hanno chiuso gli stabilimenti. Questo non succederà più perché d'ora in poi, con una norma, con una legge, se un'azienda di un marchio storico italiano va in crisi, io come ministro dello sviluppo economico la commissario, la prendo, la rimetto a posto e poi la do e la possiamo vendere ad un soggetto italiano. Questo tutela le aziende e il lavoro sul territorio. Quindi un incrocio tra l'iridi una volta e una nazionalizzazione. Un passaggio nel pubblico per trovare un migliore offerente? Diciamo che è un modo per tutelare il lavoro. Perché? Perché molti pensano che prendendo i marchi possono fare business, ma quel marchio l'hanno creato i lavoratori, i manager, i quadri, i dirigenti di aziende per anni che hanno creato fabbriche nel 1800 e sono ancora qui con quei marchi. La seconda cosa importante è l'accesso a credito di commercianti, imprese e professionisti. Le faccio però subito una domanda. Noi abbiamo due grandi imprese della moda che sono nazionali, che sono le più grandi, Armani e Prada, Dolce e Gabbana, possiamo fare tanti nomi. Se avessero un'offerta straniera, lì anche si farebbe avanti lo Stato? Dipende se sono in uno stato di crisi. Se sono in uno stato di crisi, più che un'offerta è una svendita. Si può dire questo, no? Sì. Cioè quando un'azienda va in affanno, un marchio italiano va in affanno, non perché magari non vende bene, ma ha avuto delle difficoltà. Può succedere. Ecco, perché marchi storici sono tanti, no? Sì, ma i marchi storici che godono di buona salute e il proprietario vuole venderli sul mercato, quella è una scelta privata. Io mi auguro sempre che non succeda e che rimangano italiani. Non c'è un diritto di prelazione dello Stato. Ma quando invece l'azienda va in difficoltà e quindi sta per svendere, allora a quel punto abbiamo una procedura che ci permetterà di tenere i lavoratori e le aziende sul territorio italiano. La seconda cosa importante che stavo dicendo, uno dei più grandi problemi delle aziende oggi è che non riescono ad accedere ai crediti bancari, cioè non riescono ad avere prestiti. Noi con questo decreto crescita rivoluzioniamo alcuni strumenti della finanza di impresa, utilizziamo dei fondi di garanzia pubblici per permettere alle aziende di accedere anche a prestiti bancari privati e questo consentirà di fare investimenti, anche di assumere più persone. Sono solo due punti di un decreto molto più grande. Però è chiaro una cosa, noi abbiamo nella prima parte di questo governo, ci siamo occupati con Radio Città e Anza, Quota Cento, della parte più in difficoltà del Paese e meno ambiente. Ma adesso c'è il ceto medio da aiutare, che è quello che è in estrema difficoltà e quando c'è la crisi è quello che va protetto per evitare che ci sia un calo di domande interna. Come stanno i conti dello Stato? Ha ragione Juncker che ieri ha detto che ci sono ministri bugiardi, ci sono un sacco di soldi europei. Come stanno realmente? Perché noi abbiamo visto anche che tutto sommato le richieste di reddito sono leggermente meno di quello che stimavano gli esperti, l'Inps, eccetera. Quindi forse avete più soldi, vi avanzano dei soldi. No, le domande stanno procedendo bene e secondo quello che abbiamo previsto perché le abbiamo scaglionate. E oggi sono arrivate a 850.000 domande per nuclei familiari, che significa circa 2 milioni e mezzo di persone. Credo che al secondo giro ci sarà l'esaurimento di quell'85% che noi pretevamo di domande. Però voglio dire una cosa. Oggi i conti pubblici, in questo momento, sono in linea con quello che avevamo previsto. L'Europa sta attraversando un periodo che è uno dei più difficili che ci siano in questo momento, negli ultimi dieci anni. Perché? Lo voglio spiegare in maniera semplice, però è questo l'allarme che lancia. Però l'anno bellissimo che aveva annunciato il Premier non lo vediamo ancora. Guardi, noi abbiamo delle previsioni e delle stime che ci consentono di fare quello che avevamo detto. Gli aiuti alle famiglie, il salario minimo orario. Sugli aiuti alle famiglie voglio dire una cosa importante. Un bambino che nasce in Italia deve avere gli stessi aiuti che ha un bambino francese, tedesco, dove quando nascono hai lo sconto per i pannolini, per gli asili nido, hai il contributo per i babysitter. Queste cose le faremo nel DEF di aprile. Significa che porteremo il modello francese, lo inizieremo ad inserire, aiuteremo soprattutto le famiglie del ceto medio, giovani e meno giovani, che quando fanno figli hanno aiuti. Sabato scorso ai giovani che chiedevano aiuto ed era curioso perché si parlava tanto di famiglia a Verona, lei non è andato a Verona e è andato a Cinecittà a dire cosa possiamo fare per i giovani. C'è veramente un aiuto per i giovani? Per i giovani, grazie al sottosegretario Spadafora che ha fatto un grande lavoro, quest'anno c'è il 400% di fondi in più per i progetti giovanili. Lo dico anche a tutti i ragazzi che ci ascoltano, c'è un sito che si chiama fermenti.gov.it, su quel sito internet si possono presentare progetti sul sociale, sull'ambiente, sul territorio, sull'uguaglianza e noi li finanziamo con 37 milioni. Pensi che fino all'anno scorso c'erano solo 7 milioni, però io non sono andato a Verona, non perché si parlava di famiglia, io non sono andato a Verona e stavo con i ragazzi lì in un incontro con 600 giovani. Però andrà al Vinitaly? E credo che le due cose non siano collegate, perché se erano collegate forse si capivano alcune dichiarazioni folli che abbiamo visto a Verona, perché dire che c'è un problema in Italia di crescita demografica è vero, noi siamo uno degli ultimi paesi in Europa che fa figli, ma a Verona come si diceva, ma si poteva fare in qualunque città d'Italia, non è che sono i veronesi che lo dicevano, ma l'organizzazione di quell'evento, dire che per risolvere il problema della crescita demografica bisogna chiudere in casa la donna a fare i figli o abolire la legge sull'aborto, la 194, o discriminare e odiare il prossimo. Questo non è il metodo per risolvere il problema delle famiglie che non fanno figli. Aiutiamo col modello francese, babysitter, pannolini, le famiglie che fanno figli. Allora sì, e a me preoccupa un po' questa deriva di ultradestra che a volte anche la Lega abbraccia e mi vede per forza costretto a prendere le distanze. Quando lavoriamo sui fatti con la Lega andiamo d'accordo. La legge sui unioni civili pure non si tocca, spero. Ci sono voluti anni per arrivarsi. Quando abbiamo fatto il contratto di governo, noi sui temi legati ai cosiddetti temi etici non eravamo d'accordo su tante cose, quindi non li abbiamo messi nel contratto di governo. Qualcuno dice ma così non si va avanti, così non si va neanche indietro. Cioè le conquiste sociali degli ultimi vent'anni, la legge sull'aborto, ma anche le unioni civili per me non si toccano per contratto. Però voglio dire un'altra cosa. Io da cattolico credo che la famiglia sia sacra, ma è sacra anche la libertà della donna e il diritto dei bambini. Quindi quando si cominciano a maneggiare i pupazzi col feto, quello che ho visto lì a Verona, quello non è tutelare la famiglia. Quella è un'idea che deve essere lontana, perché io non voglio insegnare ai ragazzi che la crescita demografica dipende dal fatto che la donna si è emancipata troppo. Questa roba non esiste proprio. Non è quello che voglio insegnare neanche a un mio figlio un giorno. Ci rassicura che sui diritti conquistati, finché siete voi al governo, non si toccano? Credo che su questo si debba essere più che tranquilli, perché non vedere il tema all'interno del contratto di governo significa che non si va indietro. E quindi le conquiste sociali degli ultimi vent'anni non si toccano. Però deve fare pace con Verona. Verona è una città meravigliosa, gli albergatori ospitano tanti convegni. Io credo che saluterò volentieri il sindaco lunedì, quando andrò al Venitali. Ma un sindaco mi dice, siccome ha insultato il congresso della famiglia, che poi non ha insultato, ho espresso il mio parere, non venire a Verona. Ma io credo che neanche i cittadini di Verona si trovino in maggioranza in linea con quello che si diceva all'evento di Verona, quello che ho appena detto. Però detto questo, è un sindaco, non è un podestà, quindi non credo che possa impedire a un ministro di non venire a Verona. È un bravissimo sindaco, è molto amato. Tra l'altro ha firmato un importante accordo con la Cina in occasione della firma della Via della Seta, quindi sono persone che si impegnano ogni giorno. Spero di poterlo salutare al Venitali, che è un evento non del vino in quanto andiamo a bere. Il Venitali è un evento importante perché l'Italia, in questo momento di crisi europea, può fare la differenza nella crescita economica e tutelare il lavoro e la produzione industriale con le esportazioni. Io sono molto impegnato su questo, la firma della Via della Seta con la Cina, il viaggio negli Stati Uniti, la settimana prossima negli Emirati Arabi. Noi dobbiamo portare il Made in Italy nel mondo. Più portiamo il Made in Italy nel mondo, più crescerà la nostra economia. E sono il ministro che ha stanziato 140 milioni di euro solo quest'anno per il Made in Italy nel mondo, che è la più alta cifra mai stanziata per le esportazioni. E ci lavoreremo tutto l'anno per favorire crescita e sviluppo economico. Quindi esportiamo di qua e di là? Non ci sono conflitti tra Cina e Stati Uniti? Ma io credo una cosa su questo. Guardiamo gli altri paesi europei che ci fanno pure un po' la morale. I primi esportatori verso la Cina in Europa non siamo noi, sono la Germania, la Francia. Dopo che noi abbiamo firmato la Via della Seta, anche la Francia due giorni dopo ha firmato con la Cina importanti accordi per gli Airbus. Noi siamo arrivati i primi sulla Via della Seta. E questo ha irrigidito un po' i nostri partner europei. Ma va bene, l'Italia arriva prima e ottiene un risultato. Devo dire per la cronaca, anche grazie alla visita ufficiale del Presidente Mattarella nel 2017, che ricordano con molto affetto. Che ricordano con molto affetto. E bisogna sempre considerare che i nostri ambasciatori poi sono loro a costruire e a portare. C'è l'ambasciatore Sequi in Cina, che è un grande ambasciatore che abbiamo lì, e la struttura del Ministero degli Affari Esteri che ha lavorato all'EMOIU. Ecco, che non è semplicissimo poi lavorare con i cinesi. C'è Franco Bechis, direttore del Tempo, che fa un intervento per noi. Nel suo sfogo con il Corriere il Ministro dell'Economia Tria, oltretutto, ma anche oltre, dice che se lui dovesse dimettersi non sa cosa accadrebbe sui mercati, una tempesta finanziaria. Ecco lì, considererei calma, perché se Tria si dimette si metterà un altro Ministro dell'Economia e poco cambierebbe di indispensabili, sono pieni i magazzini della storia della Repubblica Italiana. Allora, era un po' l'intervento così, sulla questione, sulla questione, sulla questione, sulla questione, sulla questione, sulla questione, su Tria, ma è veramente in discussione il Ministro Tria? Io l'ho detto dall'inizio, a parte il fatto che no, e a parte il fatto che noi il Ministro Tria non è che lo teniamo, cito le parole, lo teniamo al MEF perché sennò sale lo spread. Noi siamo una squadra e stiamo lavorando ad un programma che è di cinque anni, un programma economico in un Paese che ha tante difficoltà. Oggi uno dei motivi per cui si dice che ci sono tensioni, io credo che ci siano solo sollecitazioni e siano legittime, sia da parte della Lega e del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia e Finanze, è il fatto che ci sono i truffati delle banche, a cui abbiamo dato un miliardo e mezzo e adesso manca un ultimo atto, una firma di un decreto ministeriale per cui si devono risarcire quei risparmiatori. Sono quelli i truffati di Banca Etruria, delle banche venete, persone a cui noi avevamo promesso e abbiamo mantenuto la parola, un miliardo e mezzo di risarcimenti. Manca questo ultimo atto, più passa il tempo, più quelle persone pensano che siamo come gli altri che non hanno dato i soldi, invece noi li abbiamo dati e anzi faremo anche tutto quello che serve nella commissione d'inchiesta per scoprire chi sono i colpevoli. Sì, forse bisogna suggerire non solo al governo ma anche alle banche di informare un po' meglio quando si comprano alcuni titoli quali siano i rischi. Il dramma che io ho visto ha ragione. Perché a volte si firma gentilmente in quegli uffici belli con le palme perché poi quando vai a portare i soldi alle banche sono sempre molto gentili ma non capisci quello che hai firmato. Io mi ricordo che in quegli anni in cui abbiamo approfondito questo dossier Banca Etruria quello che è venuto fuori, la vera beffa per tanti anziani ma anche giovani che hanno perso tutto, era il rapporto col direttore della filiale che in alcuni comuni è ancora un'autorità. Un amico? Tutti fidi e loro a loro volta, direttori, impiegati, erano sotto pressione dal gruppo che gli diceva vendete, vendete, vendete prodotti finanziari perché siamo in crisi. Ecco, su questo dovevano sorvegliare meglio alcuni enti, però questi enti si stanno rinnovando quindi le persone fanno la differenza e sono sicura. E adesso c'è Paolo Savona che controlla e quindi forse metterà... Io sono fiducioso nel fatto che Paolo Savona farà un buon lavoro alla Consul. Metterà ordine. L'ex ministro con cui abbiamo lavorato bene. Lei apre il giornale e legge Salvini, due punti, comando io, si fa una risata, cambia giornale. No, io sono contento che poi il ministro Salvini l'abbia smentita questa cosa perché io quando sento comando io, faccio io, noi di uomini al comando ne abbiamo avuto già troppo, in Italia hanno fatto già troppi danni. Io non credo nell'uomo solo al comando, io le ho parlato di squadra, noi siamo una squadra col presidente Conte, il ministro Tria, il ministro Salvini, con tutte le differenze del caso quando si tratta di aiutare le famiglie, adesso il salario minimo orario per chi lavora e deve avere il diritto di arrivare a fine mese con uno stipendio dignitoso e non sottopagato, gli aiuti alle imprese con il decreto crescita, lo sblocca i cantieri... Però la disoccupazione, ci dicono i numeri, scende, cioè sale la disoccupazione, scende l'occupazione. Su questo noi abbiamo segnato alla fine, all'inizio di quest'anno, il massimo dell'occupazione dai periodi pre-crisi, 46 e 6. Poi sono dati, io voglio dire alle persone... I dati ogni giorno sono diversi. Non citerò mai questi dati per dire state meglio italiani, perché quei dati per troppi anni sono stati sbandierati come avete visto che le cose vanno meglio, ma nelle famiglie italiane le cose non andavano meglio. L'obiettivo è far percepire i risultati, per questo io prima le ho parlato di ceto medio, di esportazioni. Questi sono degli obiettivi nostri del governo. Oggi, in un momento in cui l'Europa sta attraversando un grande periodo di crisi, perché? Perché la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha messo in mezzo l'Europa e non si esportano più auto dalla Germania, per esempio, o non si esportano più prodotti del made in Italy italiano. Se torniamo però in Italia, ci si lamenta, lei è una certa ala forse del Movimento 5 Stelle che ha tante anime, perché è tanto grande. Molti dicono che se fosse per Di Maio magari la TAV si farebbe, i cantieri si sbloccherebbero, ma poi a livello locale altre anime del Movimento bloccano questi cantieri. No, ma io non credo, anche volendo, il Movimento non sarebbe in grado di bloccare dei cantieri a livello locale. Noi stiamo, l'abbiamo approvato il Consiglio dei Ministri, tra un po' va in gazzetta ufficiale, un decreto che sblocca oltre 300 cantieri. Ora, c'è uno su cui stiamo discutendo, che lei ha citato, però tolti di questi 320 cantieri, uno è in discussione, gli altri 319 erano fermi o ancora dovevano partire. Abbiamo scritto una norma, una legge che dice ai cittadini, se quel cantiere è bloccato dalla burocrazia, nominiamo un commissario e quel commissario fa accelerare il cantiere. È già successo con la Tav Napoli-Bari, con questo decreto noi daremo più lavoro nei cantieri a ingegneri, geometri, lavoratori. Alcuni stanno già ripartendo. La Ministra del Sud, Lezio, ha fatto una scommessa, deve tornare qui o con il caschetto in testa o con la foto che ha inaugurato il cantiere. Lei sicuramente tornerà con cantieri di sua competenza, però ieri il Ministro Toninelli ha sbloccato un'autostrada alla Barimatera, se non sbaglio, l'altra settimana col Presidente Conte la Asti Cunio, quindi si stanno già sbloccando alcune opere, però voglio dirle una cosa. Noi siamo al governo da nove mesi. Ieri c'era un'altra trasmissione, una persona che mi diceva, ma non avete fatto ancora, non avete fatto ancora. Io so benissimo che questo Paese per 30 anni ha avuto dei problemi e si devono risolvere, ma non li possiamo risolvere tutti in nove mesi. Sull'economia e l'impatto sul PIL, la cosa importante adesso sono le esportazioni, quelle hanno un impatto immediato. Cantieri e investimenti avranno un impatto a medio termine, quindi investiamo sul Made in Italy, che è la cosa più bella che abbiamo, e colonizziamo il mondo con quello. E tuteliamolo anche il Made in Italy, non compriamo prodotti che c'è scritto Made in Italy e magari sono fatti altrove. Su quello le nuove tecnologie, tra un po' con un progetto del Mese ci daranno una mano. Marco Sales è andato a vedere una bella storia, la storia di alcune persone che si ricomprano l'azienda. Vediamo. è una cosa che si deve provare, perché chi non lo prova non può capire quando si perde il posto di lavoro. In un attimo perdi tutto. Ci sono persone che hanno perso pure la testa, noi fortunatamente l'avete usata. L'abbiamo usata. Hanno scommesso tutto quello che avevano e hanno vinto. Loro sono i 12 operai della Screen Sud di Acerra. Per salvare questa fabbrica dal fallimento hanno messo assieme la liquidazione e risparmi di una vita. Come vi è venuta in mente un'idea del genere? Cioè ci vuole tanto coraggio per decidere di fare una scelta così? Ci vuole tanto coraggio, però il coraggio te lo dà la disperazione. Quindi anziché vacillare nel nulla ci siamo prefissati un obiettivo e abbiamo fatto il possibile per fare in modo che si realizzasse. Per comprare l'azienda in cui per anni avevano costruito reti e telai d'acciaio, questi lavoratori hanno fondato una cooperativa e sono ripartiti da zero. Era tutta una strada in salita. Il progetto era iniziato, però non ci credevamo fino al 100%, però la voglia c'era di crederci. Gli operai, che erano rimasti senza stipendio, hanno fatto sacrifici enormi. Mi dovevo sposare a breve, dentro pochi mesi. Allora non avendo nessun lavoro mi sono buttato subito in questa cooperativa. Mi chiamano che ho sposato prima questo progetto, poi ho sposato mia moglie e poi dopo è arrivata l'ufficialità dell'azienda. Far ripartire la società all'inizio non è stato facile. Fare un passo di questo, tanto poteva essere il cambio della vita e tanto poteva invece ancora in un ulteriore fallimento. Oggi però la fabbrica ha spiccato il volo ed è sporta in tutto il mondo. Sei anni fa si sarebbe aspettato oggi di trovarsi qui, a lavorare nello stesso luogo dove lavoravamo prima, nello stesso macchinario. No, il pensiero non ci stava poco. È una cosa che dovevamo fare per forza perché il lavoro non ci sta. È l'unica alternativa per lavorare. È una bella storia perché è una storia di persone che tornano dove lavoravano con i loro soldi essendo cooperativa. Ecco, voi avete pensato delle formule nuove per aiutare appunto chi si associa, chi vuole scommettere, inventarsi il lavoro. Lui se lo sono inventato. Beh, noi come Ministero sia del lavoro che dello sviluppo economico riceviamo ogni giorno quasi come un pronto soccorso aziende in crisi con lavoratori che chiedono aiuto. Quando possiamo stimoliamo questi processi e ci sono anche dei meccanismi di incentivo che noi possiamo dare a cooperative di lavoro che vogliono crearsi e formarsi per rilevare più che altro le commesse e i macchinari della vecchia azienda che è fallita. Io ne ho seguita una simile quando ero Vice Presidente della Camera ad Arzano, non molto lontano da Cerra, Cerra è a pochi chilometri da casa mia, non li conosco ma gli faccio i complimenti, si chiamava la Ital Cables, loro lavoravano per cavi, per treni, per questo genere di prodotti e rilevarono come cooperativa l'azienda. Su questo ho fatto anche un grande lavoro LegaCop e in generale l'Alleanza delle Cooperative che assiste questi lavoratori nel processo di formazione della cooperativa. Ecco, si può incrociare col reddito anche questo? Cioè per esempio dare il reddito a persone che stanno scommettendo e sono senza lavoro? L'autoimpiego che significa io che sono senza lavoro, entro nel programma del reddito e voglio aprire un'impresa, è previsto e le dirò di più. Se tu prendi il reddito e vuoi aprire un'impresa io ti do per sei mesi come sgravio fiscale quello che prendevi di reddito. Se invece un'azienda assume quelli del reddito, mettiamo questa cooperativa, assume da quelli re, prende 18 mesi di sgravi fiscali. Quindi significa che a volte può anche dimezzare il costo del lavoro dell'impiegato che prende. Quindi chi si inventa il lavoro può attingere ai fondi per il reddito di cittadinanza in varie forme, sotto forma di sgravio fiscale oppure proprio come... Poi voglio dire una cosa che grida vendetta per i suoi telespettatori al volo. Il Mise negli ultimi ministeri ha dato negli ultimi dieci anni 80 miliardi di euro di incentivi, li ha scritti, stanziati, solo il 40% è stato erogato perché molti non lo conoscono, non conoscono il sistema degli incentivi e dopo vi do un sito internet utile per gli incentivi. Tutti a cui possiamo attingere, tra poco. L'ospite di questa sera è Luigi Di Maio, parlavamo di lavoro, di persone che un po' se lo stanno inventando, gli italiani sono bravissimi, i giovani inventano start-up. Ecco, il ministero del lavoro che lei guida, come aiuta? Dicevamo prima ci sono dei fondi. Allora, l'Italia in questi anni, lo dico in un minuto, ha scritto in leggi 80 miliardi di euro di incentivi negli ultimi dieci anni, ma la cosa che mi ha sconvolto è che quasi il 50% non sono stati richiesti, perché nessuno sapeva dove andarli a cercare. È complicato. Adesso esiste un sito, si chiama incentivi.gov.it, mette insieme tutti gli incentivi che dà lo Stato a livello centrale e crescerà sempre di più. Si va lì sopra, si scrive chi sei e cosa ti serve e ti restituisce gli incentivi che ti possono servire, sia per i giovani che vogliono aprire un'impresa, sia per chi ha un'impresa e vuole usarli per fare investimenti. Questo è utile e non c'era prima, bisognava cercarli sito per sito, gazzetta ufficiale per gazzetta ufficiale. Luigi Di Maio oggi è sulla copertina di chi? Vediamo perché. Elena Redaelli ha realizzato un servizio. Tre mesi insieme, vissuti intensamente, Luigi Di Maio e Virginia Saba sono inseparabili. Un amore loro, vissuto ormai alla luce del sole, come una coppia qualsiasi. Eccoli in questi scatti, paparazzati dai fotografi del settimanale Chi durante una domenica romana a Villa Borghese. La sera cambio d'abito, una cena in pizzeria e poi una romantica passeggiata notturna per ammirare la fontana di Trevi. Tra loro, il classico colpo di fulmine fra un comizio e l'altro, scoccato durante la campagna elettorale in Sardegna, la terra natale di Virginia, collaboratrice parlamentare di una deputata grillina. In comune, la passione per la politica, ma non solo. Anche la musica. La loro prima uscita pubblica al Teatro dell'Opera, per Orfeo ed Euridice. Ma a differenza di Orfeo, Di Maio, per la sua Virginia, ha lo sguardo già proiettato al futuro. È lei a raccontare i loro progetti, intervistata da Chi. Gli ho detto, vorrei diventare mamma, e lui mi ha risposto, è bellissimo. Poche sere fa mi ha portato ad Avellino a conoscere i suoi genitori, le premesse ci sono tutte per le promesse della vita, siamo innamorati folli. E anche durante gli appuntamenti politici, Virginia è sempre al suo fianco, come sabato a Cinecittà, durante la manifestazione Oggi Protagonisti, seduta in platea ad ascoltarlo. Se sono rose fioriranno, di certo nel cuore di Di Maio ora sembra battere un'unica stella. Auguri! Grazie! Che si può dire con la musica di Morricone? Non si può dire altro. Lo conserverò con cura questo servizio. Ma era organizzato? Vi siete accorti dei fotografi? Guardi, non lo sapeva neanche la mia scorta che andavo a Villa Borghese. Poi ci hanno seguito dei fotografi, però posso dire che non rinuncio a vivermi un momento di serenità, di tranquillità e anche di normalità, come una passeggiata al parco. Poi ci faranno le foto e se servono anche a riempire una rivista ci fa anche piacere. Però detto questo, la normalità è la cosa che ci tiene con i piedi per terra e non c'è niente di più normale che una storia d'amore in una vita e di viversela alla luce del sole insieme a tutte le altre persone. È un governo così giovane che in effetti ci riporta ai flirt, agli innamoramenti. Questo fa parte delle novità. Lei ha una tesserina gialla nelle mani che è quella del reddito. Allora, quando arriverà a casa agli italiani? Allora, agli italiani che hanno fatto richiesta in questi giorni, la prima regione è la Lombardia, quindi abbiamo sconfessato anche il fatto che fosse solo per il sud, una regione che fa un quarto del PIL nazionale che ha il numero più alto di richiedenti del reddito. Questa tessera arriverà nei primi di maggio, aprile sarà il mese delle verifiche per vedere se tutte le domande sono corrette. Voglio dire una cosa ai pensionati che ci seguono, i pensionati minimi. Nel modulo c'è scritto reddito e pensione sotto. E pensione di cittadinanza. Questa tessera serve anche a chi ha una pensione minima e non ha nulla per poter richiedere l'integrazione alla pensione di cittadinanza. Cioè, noi passiamo 500.000 pensioni minime da 500 euro a 780 euro. Se vogliamo dirle in lire, passiamo da quasi un milione a quasi un milione e mezzo di lire. E questo è molto importante perché alcuni non lo sanno e non stanno facendo la richiesta. Possono andare alle poste, ai CAF o sul sito internet reddito.com.it e possono richiedere la pensione di cittadinanza perché per me nei prossimi anni non devono più esistere pensionati minimi sotto la soglia di povertà relativa che è 780 euro certificata dall'Eurostat. Allora, basterà per risalire i sondaggi che vi danno in discesa rispetto al boom del 4 marzo dell'anno scorso? Se avessi voluto guardare i sondaggi sarei dovuto stare immobile. Avrei dovuto passare gran parte di questi otto mesi senza far nulla. Perché ogni cosa che facciamo... Uno lo fa contento e uno lo scontenti. Quindi io non lo sto facendo per i sondaggi. Magari questa misura è anche impopolare. Nel senso che qualcuno dice, vabbè ma io ho capito altre difficoltà perché devo pagare la pensione a quelle persone. Perché non è solo questo. Adesso come ho detto durante tutta la puntata, ci stiamo rivolgendo al ceto medio. Chi lavora deve arrivare a fine mese. Ma qual è la soglia minima secondo lei o massima? Chi ha figli e vuole avere degli aiuti nel ceto medio. Li aiuteremo un po' alla volta tutti quanti. Abbiamo messo in sicurezza la fascia più debole. I pensionati minimi che andavano alle menze dei poveri perché non arrivavano a fine mese. Di questo stiamo parlando. Ecco, ma qual è la soglia che vi date per le europee? Perché uno dovrebbe votare per voi alle europee? Siamo già quasi in campagna elettorale. Per due ragioni secondo me fondamentali. La prima è perché noi vogliamo portare a livello europeo un salario minimo europeo orario che dica che d'ora in poi un cittadino europeo, se lavora, deve avere una paga minima dignitosa. Se no è uno sfruttato. Due, perché tutti i bambini che nascono in Europa devono avere gli stessi aiuti. Asile nido, babysitter, pannolini. Intanto noi lo facciamo in Italia, non aspetto l'Europa. Ma per farci continuare questo lavoro in Italia e in Europa, votare il movimento è molto importante. Qualcuno dirà, va bene, ma voi siete due forze politiche, posso votare l'uno o l'altra. Io le dico, dopo sabato, con quella cosa di Verona, si viene anche a conoscenza del fatto che i temi della famiglia sono cari a tutti, i temi del lavoro sono cari a tutti. Però alcune soluzioni mi preoccupano. Siete diversi. E quindi credo che sia importante andare avanti tutti e due insieme perché ci aiutiamo a vicenda. Cosa pensa di Nicola Zingaretti? Io credo che sia un PD nato o rinato un po' stanco. Anche perché le prime due cose che ha fatto, Zanda ha presentato quella proposta di legge per aumentare lo stipendio ai parlamentari. Io voglio aumentare lo stipendio ai lavoratori, lo voglio aumentare lo stipendio ai parlamentari. L'aveva però presentata in tempi passati e faceva parte di un disegno complessivo di finanziamento. E di qualche giorno fa la dichiarazione in aula nei primi di marzo. E la seconda cosa, ieri hanno incontrato i sindacati e dopo questo incontro si partorisce l'idea della patrimoniale. Secondo me è un PD che va bene, io gli faccio i miei migliori auguri a Zingaretti, ma deve rivedere un attimo le priorità perché gli italiani non ci chiedono né di aumentare lo stipendio ai parlamentari né di fare una patrimoniale. Queste sono due idee totalmente sbagliate, secondo me, di quello che vogliono gli italiani. Poi ognuno ha i suoi programmi, ognuno ha le sue idee.